gli ingredienti per fare i panzerottini dolci fritti e al forno sono 300 g di farina 120 g di zucchero 120 g di burro un uovo un tuorlo mezzo cucchiaino di lievito istantaneo marmellata quanto basta aroma di vaniglia sale zucchero a velo in una ciotola mettete la farina lo zucchero il lievito un pizzico di sale l'aroma di vanillina e mescolate aggiungete il burro a tocchetti e con l'aiuto delle mani amalgamate il tutto unite le uova e lavorate l'impasto fino ad ottenere un panetto avvolgete il panetto nella pellicola e riponete in frigo a riposare per 30 minuti riprendete l'impasto e stendetelo tagliate dei dischetti con un coppapasta o con un bicchiere al centro di ogni disco mettete un cucchiaino di marmellata richiudeteli a metà e sigillate con una rotella disponeteli in una teglia con carta forno ed infornate in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti se li preferite fritti cuoceteli in abbondante olio caldo rigirandoli da entrambi i lati per farli durare spolverizzate con dello zucchero a velo e buon appetito se questa ricetta vi è piaciuta vi invito ad iscrivervi al mio canale o a lasciare un like grazie in anticipo